Grazie a tutti Ciao a tutti ragazzi e benvenuti sul canale Io sono Maxi Oggi vi porto un video Differente dal solito Ho intenzione di fare una serie nuova Una serie di gare malate Una serie di gare che andremo A scegliere di volta in volta Nel social club e che vi porterò Anche vostre gare se voi me le linkate Purché siano Gare decenti E fattibili io le farò e le porterò Sul canale ragazzi Quindi nulla andiamo a vedere Questa serie volevo farla partire Da un po' Solo che ci ho messo un pochino di tempo E come vedete ragazzi Le mie gare vinte e perse Sono veramente poche Quindi il mio obiettivo Sarà di far salire Questa simpatica ragazzuola A più gare vinte Insomma quindi partiamo subito Certo partire con le gare malate Per farla salire Non è proprio l'ideale Però ce ne freghiamo Ce ne sbattiamo il cazzo E cominciamo ragazzi Cominciamo Andiamo a vedere questa gara Che è veramente un po' così Io l'ho vista L'ho scaricata dal social E adesso andiamo a vedere com'è Mi sembra di averla giocata Qualche volta in un invito Però non sono sicuro Comunque andiamo a vedere Cerchiamo di mantenere La prima posizione O comunque cerchiamo di andare Cerchiamo di sportellare Il meno possibile Ragazzuoli Allora a me piace moltissimo L'X80 Proto Raga io non so voi Ma a me come macchina Piace veramente tanto E diciamo che è la una Delle mie preferite Ah Guardate che belle le mie ruote Da fuori strada Ecco lì avevo lo stronzo Che mi ha atterrato sopra Ehm beh giustamente Tra uno che ti atterra sopra E uno che ti da una sportellata E va bene Però io cerco di giocare In maniera corretta ragazzi Vediamo se riesco A essere corretto Fino alla fine Perché qui Qui Dei stronzetti Va Uno Diciamo che mi ha preso Così per sbaglio Spero per lui Invece un altro C'è proprio partita Sportellare Sto testa di minchia Comunque Va bene Va bene Continuiamo Continuiamo la nostra gara E siamo in seconda posizione Quindi vediamo un po' Che cazzo si può fare Andiamo Per la remontata Verso il primo Qui c'è sta Spiralona Ragazzi Vedi che bella Veramente Veramente Bella sta spirale Sì sì Allora Allora Continuiamo Vediamo un attimino Ce l'ho Davanti Sto stronzo Vediamo se riesca A ripiarlo Vediamo se riesca A riprendere Wow Ragazzi Guardate che spettacolo Io penso che Molti di voi L'avranno fatta Sta cara Ma non vedi Che culo Sono passato Per bucio di culo Lì Mi sa Penso che voi Qualcuno di voi L'avrà fatta Sta cara Suppongo Guarda questo Quando cazzo Sta che non riesca Di piallo Vabbè Vabbè Continuiamo Continuiamo Andare Continuiamo Tanto Sono due giri Mi sembra Sono due giri Sì Sono due giri Quindi Andiamo avanti Vediamo un attimino Che Speriamo Ok Ok Ragazzi Ah no Ma che cazzo Mi segna La prima posizione Ma mi segna La seconda posizione I misteri di gta I misteri di gta Vediamo di superarlo Questo stronzo Perfetto E mo speriamo Che mi dice Culo Come mi ha detto No Qui c'è la spirale No ragazzi A me il pezzo Che mi mette Più paura È quello lì Dove c'è Il turbo Che non si vede Quasi in cazzo Non si vede Mamma mia Che trippa Che so Sti cazzo De dubbi Ragazzi Ok Ok Andiamo A mestiere Cerca Ma Ce l'abbiamo fatta Ad atterrare Ci facciamo La spiraletta Ragazzi Siamo partiti In 14 persone Mi sembra Ragazzi Mi pare che Chiude qualcuno Ha abbandonato La gara Mi sembra Adesso Non lo so Se sono crashati Se si hanno abbandonato Non so Un cazzo Ecco Vediamo De fa bene Sto pezzo Regà Vediamo Un attimino De riuscire Eccola lì La paura mia Lo sapevo Ragazzi Lo sapevo Lo sapevo Ho preso subito Ma io Dico Ragazzi Ma se può mettere Un turbo Un turbo Così a membro De segugio A cazzo De cane Cioè Non si vede Io capisco La velocità Tutto Tanto Comunque Quando esci Da lì La velocità C'è Quindi Ok Ok Cercamo De fa una cosa De fa una cosa Serio Dai Ah Di vincerle tutte Spero di vincerle tutte Ragazzi Però magari C'è posta pure Che ogni tanto Qualcuna Che io Arrivo Secondo Insomma No ragazzi E niente Detto questo Ragazzi Io vi saluto Spero che questa nuova serie Vi piaccia Lasciate un like Un saluto a tutti E al prossimo video Ciao a tutti Ciao a tutti